E' tutto pronto per la festa in casa Gela. Domani a Paceco si punta la conquista della Serie D. Contro il Dattilo Noir basterà pareggiare ed attendere che la San Cataldese in casa col Camarat faccia altrettanto per brindare alla promozione. Dunque 90 minuti separano i biancazzurri dal salto di categoria. Potrebbero essere 180 se invece la San Cataldese dovesse vincere e il Gela non dovesse fare altrettanto. L'importante per il team biancazzurro è non perdere. Ma domani la squadra allenata da Totò Bruculeri con una settimana di anticipo rispetto alla conclusione della stagione regolare in eccellenza vuole chiudere ogni discorso. Noi andiamo lì a Paceco cercando di fare bottino pieno, cercare di chiudere la pratica e non cercare di arrivare all'ultima giornata con l'acqua alla gola e di vingere per forza. Noi siamo lì sul pezzo, sappiamo che manca poco però non dobbiamo collarci di questo fatto, non dobbiamo collarci che abbiamo un'altra scienza la prossima domenica. Dobbiamo cercare di chiudere definitivamente con questa partita. Ed è stata una rincorsa difficile quella vostra perché lo ricordiamo non eravate in testa dalla prima giornata. Dopo aver battuto la Sangataldese e aver piazzato il colpo finale, da allora è chiaro che il Gela ha dimostrato ampiamente di meritare la Serie D. Diciamo che abbiamo messo una marcia in più con l'arrivo del 2016, abbiamo lavorato sodo per arrivare a questo livello di forma fisica. Credo che i risultati stanno dando ragione al lavoro fatto nei mesi precedenti. Anche domani in quel di paceco saranno tantissimi tifosi giolesi che seguiranno la squadra del cuore. Sono diventati il nostro vero, lo sono stati sempre, il nostro vero punto di forza. Siamo sicuri che domenica ci verranno a sostenere in massa e speriamo di poter festeggiare assieme al triplice fisico. Per il possente difensore giolese, quella che sta per maturare, è la terza promozione di seguito con la casacca biancazzurra. Ancora non parlo perché mancano due punti, però sarebbe un traguardo meraviglioso. Non c'è due senza tre. Certo.